ciao raga da marco e cristian siamo qui con questo ons qua on darna on darna è dell'onda e non è dello squarna allora siamo stati pomeriggio e marco a cercare positivo e negativo per cercare di fare funziona a fari ma qui come ho detto negli altri video è tutto un puttanaio quindi si ricompra l'impianto elettrico nuovo si rimonta tutto l'impianto elettrico poi si riattacca il suo statore chi è uno statore marco il rotore interno mv t d 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 la madonna e d d d d d d d o si trova la corrente vabbè nulla siamo qui guardate calcomanie ammesso cioè ragazza tanta roba che ha fatto marco galgano 28 non sono belle di più e fatti bene sono fatte veramente bene poi oltre le cose fatte bene qui vicino a me ha aperto un parrucchiero mandato ristia genere 15 euro a chi se gliene piglia 20 dice figlio di grete bene 20 euro 20 euro perché ho fatto sta pellino sembra fatto guarda raga con il goniometro girati e poi ha fatto storico chissà se ora mi sento un drogao dice madonna 5 euro il rigo venga venga anch'io c'era una striscia una striscia come si chiama insomma io non mi senti parlare d'accordo marco a fine io se no qui tutti diano ma sti carene come ci stanno con le fascette questo per tirassù quando uno è stanco dice mi piglia sono mamma mamma e danni di gas e dopo vabbè nulla va bene ma nulla raga a proposito avevo messo la flebo dove ce l'ho no no e lo dico eccola qua ho messo la flebo perché si è levato in serbatoio a regge la flebo ristia dai tappo dai tappo dai tappo allora qui c'è scritto 200 200 millilitri l'ho riempita fin qua si è accesa quattro volte questa moto ai minimo è solo per provare per vedere dove arriva la orrente quattro volte si è fregata la benzina dice l'altro giorno è venuto via da me da empoli è arrivata a segna dice rimasta a piedi e ci vedo dove rimanere a piedi a montelupo no a signa fischia ora io dice no a due litri e li darò a lui poi arrivo un attimo al benzinaio sennò cricchio rimango senza chiedo è rimanere senza che tu ti sei che a me non è che mi occupa poco mire mire benzinaio ha anche detto poi mire mire poi mire mire muratore e meccanico e poi ti ha rotto i miei mire vai ciao ragazzi sempre video simpatici ciao ragazzi marco ma sono simpatico io te tu sei numero uno number one number one è in fiorentino il fiorentino tu sei un bischero si perché aiuta sempre tutti se un bischero si giusto eri ma è vero si ferma per la strada dice tu sei il figlio di De Greatt fischia sei diventato famoso anche tu ora ti dai con la striscia addio mi ferma più di più ma ti potevi fare scrivere De Greatt qui te lo scrivo io te lo scrivo io c'ho la macchinetta te lo scrivo io dai perché polini polini io sono malossi tu mi dici polini ti fai la y? eh quattrini allora che scrivo quattrini e poi ti fermo e ti dice tu hai sordi eh guarda che ti fate il colore come tu sei rosso qui? eh ma ho messo il coso come si chiama? ma la presa la lametta gli ha dato fuoco si ho detto che fa ma mi sono spaventato ho detto non mi da fuoco va bene vai sei rimasto contento? si si lascia fare la pagavo te ahahah non rimasto contento anch'io ahahah Marco che tu ridi? lo trovi buco? lo trovi buco? che lo trovi buino? quant'anni c'hai Marco? io? 18 eh e non tu trovi buio a 18 anni? ahahah io non ho 47 lo trovi buio ahahahahahahah un torno di buio cambia buio ce ne due di buio cambia buio aspetta facciamo una voce non filavo prima io e tu non fili te? aspetta aspetta allora l'esperienza davvero eh di fa eh eh? eh usiamo la tua donna? vittoria vittoria vada ora va di mano non trovi buio va di mano ahahahahahahahahahahah non si bestemmia shhhhh non trovi buio tu mi fai di cose umane scusa reggete il telefono non trovi buio vai provate la vite dammi vada cazzo è la prima ma è tu aspetta aspetta 40 anni e non sei finita 47 e il 47 è un entrare era più basso ma perchè hai storto la vite un po' in meno? no io non ho storto nulla io ho preso e ho trovato i bù subito alla prima ho trovato subito i bù alla prima ma chi sono io? perché tu sei abituato grazie Mauro e complimenti un pischellino di 18 anni non trovi il buco? si 18 mi pare strano anche a me mi pare strano vabbè ognuno ha su difetti ciao raga il buco lo trovavo io un saluto da Marco ciao a tutti raga vittoria e Cristian ciao a tutti raga